Ha comprato un quadro? Un Francesco della Piera originale Allora guardi che forse era un Piero della Francesca Piero della Francesca Allora lo ha preso al contrario, devo girarlo Comunque se è della Francesca sicuramente lo rivuole indietro Mi dispiace solo che per comprarlo ho quasi venduto il Monza Urca! Adesso sono due portieri all'asta su eBay Ecco tra l'eBay si dice Senta, a proposito del Monza, è vero che vuole comprare Ibraimovic? Solo se quello originale A questo punto non si sa Cosa? E credo che proprio questo sia il più grande, grande, grande problema Che abbiamo oggi in Italia Che bisogna stare distanziati da almeno due metri Per evitare di comprare gli Ibraimovic falsi No, no, no Quindi italiani, attenzione alle fregature nelle aste Fidatevi di me, io lo so Veronica me lo diceva sempre Con quell'asta lì finisci che ti rovini Era un'altra asta Per cui mi raccomando, occhi a parte! E leaning altri Ese parte��를 andfern, e diva e lui cosa un'auto E diviare al noe